Approvata la manovra finanziaria per far fronte alle spese sulla sanità, un'operazione da 400 milioni ma c'è la polemica delle minoranze. Il consiglio boccia il glifosato, approvata mozione per sostituire questo ed altri diserbanti con il cippatino. Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento al documento economico e finanziario del 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione e gli interventi normativi collegati. I provvedimenti sono passati con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e quello contrario dell'opposizione. Si tratta di una serie di interventi, ha spiegato il presidente Gianni, che consentono di chiudere il bilancio della sanità in pareggio. La manovra raccoglie un complessivo di 400 milioni, ha dichiarato ancora Gianni, condizionato dal fatto che la copertura dello Stato è arrivata soltanto al 20% delle spese. Ma sentiamo le dichiarazioni dei gruppi politici che abbiamo raccolto. Ci sono tanti interventi di spese in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritaria, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei, fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370 mila euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema aviario toscano, in particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinate alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500 mila euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergio la Foscalina a Carrara, ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della Chiesa nel comune di Barberino del Mugello, fino ad arrivare a 800 mila euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la regione toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro, a queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la regione toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale, che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa, soprattutto di investimento che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Risposte concrete per il territorio toscano e soprattutto molti aiuti agli enti locali, province e comuni, soprattutto come si è detto sul fronte della risistemazione del sistema diario e del recupero degli immobili. È ovvio, le spese sanitarie vanno coperte e per l'ennesima volta la regione insieme allo Stato ha ripianato il buco delle ASL che è ammontato, ci ha spiegato il Presidente di Commissione, a circa 550 milioni di euro, sfiorando il commissariamento della sanità toscana. Ma oltre a questo ci sono tutta una serie di interventi a pioggia inseriti all'interno di questa manovra di bilancio senza una reale programmazione, tant'è che ANCI e UPI hanno criticato con una lettera aperta la regione perché non ha svolto la concertazione adeguata sulla manovra di bilancio e soprattutto denunciando il fatto, come noi denunciamo da molti mesi, che questa amministrazione procede ormai dall'inizio della consigliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un DEF, cioè il documento di finanza regionale poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali, che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio, alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni perché Gianni sta facendo invece figli e figliastri. Sì, una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati cinque mesi anche di trattativa politica, la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse e tenere i conti in equilibrio ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire anche per quanto riguarda il bollo dell'auto, c'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo da aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Il periodo è delicato e difficile, tra i più delicati e difficili nella storia anche della regione toscana. Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore bui. In regione toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore. Mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro. Questo modo di fare del governatore non ci piace. Così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. Sì, approvata la variazione di bilancio. In realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio perché naturalmente come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute su in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito della sanità, del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma o un modus operandi che è noto, interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale. Noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe, lo condividiamo, è chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto tondo e quindi l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta ecco questo per noi è inaccettabile. Quindi auspichiamo davvero che questo modo di gestire le variazioni di bilancio e i lavori del Consiglio cambi da parte della Giunta perché altrimenti in una congiuntura internazionale già molto difficile dove tante aziende e tanti lavoratori ancora sono in una condizione di forte disagio, ecco la politica forse deve fare sicuramente uno sforzo in più. Da aggiungere anche l'intervento del capogruppo di Forza Italia Marco Stella secondo il quale serve riaprire una riflessione su come si gestisce il sistema sanitario a livello nazionale. Al centro deve esserci il malato e non il costo del malato, ha detto Stella chiedendo al Presidente Gianni di farsi sentire a livello nazionale. Sentiamo invece la capogruppo dei 5 Stelle Irene Galletti sulla questione del clifosato, il diserbante che stando alle anticipazioni non sarà inserito tra quelli tossici dall'Unione Europea. La Toscana ha sposato la linea della massima prudenza e il Consiglio regionale ha votato una mozione per sostituire comunque questo ed altri diserbanti con il cippatino che contrasta comunque la crescita delle erbe infestanti. Sentiamo Irene Galletti. Una prima considerazione ci fa vedere che si tratta di una sostanza che è stata dichiarata lesiva per gli occhi e tossica per la lunga durata per gli organismi acquatici e tuttora nessuno ha smentito questo passaggio. Un lente di ricerca europeo contro il cancro ha dichiarato che molto probabilmente questa sostanza è cancerogena. Adesso arriva un parere che differisce in qualche modo. Io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il clifosate che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno o meno. Ricordo che la Regione Toscana ha investito e sta investendo ancora moltissimo nell'agricoltura biologica, nella tutela dell'ambiente e che in un'ottica che è quella che ci sta richiedendo anche l'Unione Europea cioè di transizione ecologica, sostenibilità ambientale e possibilmente utilizzo il minore possibile di pesticidi, fitosanitari e quant'altro in un'ottica di un ambiente più salutare per la salute umana e ambientale. L'idea di continuare a utilizzare il glifosato nel 2022 è in ogni caso contrario a tutti i principi che in questo momento stanno guidando le politiche nazionali, internazionali e anche quelle della Regione Toscana. Noi ci siamo espressi con atti già nella scorsa legislatura e continueremo a farlo perché l'Unione Europea continua a mantenere questo assetto. Torniamo alla manovra finanziaria perché tra gli ordini del giorno approvati ce n'è uno presentato da Fratelli d'Italia sulle spese sostenute dal sovrintendente del maggio fiorentino Alexander Pereira. Si tratta di spese anomali, si legge nell'Ordine del giorno, che impegna la Giunta a fare chiarezza. L'Ordine del giorno è stato approvato all'unanimità e questa linea, quella della trasparenza, è stata sposata anche dal Presidente della Regione Gianni. Sì, abbiamo approvato all'unanimità una mozione, maggioranza opposizione, dubbiamente è un campanello d'allarme quello che è venuto fuori nella prima verifica di quello che erano le spese di rappresentanza usate dal sovrintendente Pereira, però dobbiamo dargli anche l'opportunità di chiarirle cosa che lui farà davanti a coloro che hanno aperto dei procedimenti, mi riferisco ad esempio alla Corte dei Conti, mi riferisco al Comune di Firenze che lo ha già udito nella Commissione Cultura. Sono convinto che un'istituzione così prestigiosa deve essere agli occhi della cronaca per la buona musica e i risultati che ottiene e finora è stato così. Quindi diamo anche un'indicazione di sobrietà nell'uso delle spese di rappresentanza sovrintendente Pereira, ma diciamo anche che da un punto di vista della sostanza per cui lui è stato chiamato a svolgere il sovrintendente, finora ha dato un buon profilo, una bella immagine al maggio. In chiusura cambiamo completamente argomento e parliamo della presentazione al Palazzo del Pegaso del libro La Regina della Notte, thriller storico del direttore d'orchestra pisano Francesco Pasqualetti. Il romanzo, edito da Rizzoli, è ambientato nell'Europa di fine Settecento e racconta il sogno di gloria di Caterina Lagrande di Russia, intrecciandolo con la musica di Domenico Cimarosa e di Mozart. Sentiamo l'autore, il direttore d'orchestra Francesco Pasqualetti. È un libro incredibile dove la storia della Toscana svolge un ruolo molto importante. Da alcune ricerche storiche, in parte inedite, pare ci sia un collegamento fra la morte di Mozart, avvenuta a Vienna, e la morte di Leopoldo II, che altri non è il nostro Pietro Leopoldo di Toscana. Avvenuta in un momento in cui l'imperatore stava tentando di liberare sua sorella, Maria Antonietta. Un ciclo di morti inspiegabili legate da un filo conduttore che riporta all'attualità. In quel mese del 1792 la Polonia dell'epoca voleva occidentalizzarsi, aveva varato la più moderna Costituzione europea e la Russia non lo permise e la invase. Tutto questo poteva avvenire anche a causa di queste morti. Una storia tra musica e diplomazia che ha un richiamo con l'oggi incredibile. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.